Pronto, buongiorno, sono Stella Cadente, modella, influencer, attrice presso me stessa. Vorrei prendere una casa in affitto a Milano, ma è vero che ci sono tanti gay con cui parlare? No, perché questa cosa è super cool, e nel posto dove vivo io per ora, gay scarseggiano un po'. Ma già che ci sono, le vorrei chiedere, ma anche se Milano è piena di froci, si sta bene con i miei amici o no? No, perché sai, io sono molto amica dei gay, ho tantissimi amici gay, sì, quelli lì. Quelli ignoranti che si riuniscono per strada, e poi mi fanno perdere il treno, mi fanno venire ad attacchi d'ansia. E io poi sclero, ma certo che sclero, ma certo che sclero, perché la pulizia quando serve, dove cazzo è? Che cosa fa la pulizia? Si fa le seghe, la pulizia, la pulizia. E Hitler? Hitler dov'è? Servirebbe Hitler in questi casi, eh? No, non mi dica di calmarmi, di non fare l'omofoba, perché io non sono omofoba, non sono omofoba. E io lo puoi assicurare anche Iconize che è super gay. E io lo posso esserciare anche i migliori.